Due colori, una sola città. Bassano si prepara alla volata finale per la Serie B colorandosi di giallo-rosso. Una sorta di abbraccio collettivo ai ragazzi di Asta, un modo per dire fin d'ora grazie per una stagione già indimenticabile e per sospingere Iocolano e i compagni verso la realizzazione di un sogno senza precedenti. La squadra di calcio di Bassano Virtus è veramente alle porte di una grandissima occasione, inedita per la città. Quindi non si tratta soltanto di una squadra, di una società, ma accanto a quegli 11 ragazzi che scenderanno in campo c'è la città intera che fa corpo, si stringe, perché sente proprio questa eccellenza e la vuole spingere avanti fino in fondo. Accanto al Bassano Virtus e al Comune scendono in campo anche i commercianti pronti a colorare vetrine e negozi. Noi inizieremo i tempi più veloci e celeri possibili a distribuire dei fiocchi giallorossi e quelli che sono i manifesti delle locandine con la prima squadra del Bassano Virtus. Dopodiché naturalmente sarà soggettivo ad ogni esercente, ad ogni commerciante, addobbare questa città la propria vetrina con quello che più riterrà opportuno. Per noi l'importante è comunque dare un segnale, far vedere a questa squadra che stava vivendo un momento storicamente importante e far vedere che ci siamo e che siamo con loro. E se la città si colora per i Virtus.ini è già tempo di tornare in campo. Domani alle 14.30 si gioca al mercante contro il Renate e per il mister Asta esiste solo una parola, umiltà. Porterò la squadra in ritiro, ma non che la porto perché voglio portare in ritiro, abbiamo parlato con i ragazzi, anche loro, ma non per avvertire ancora di più questa gara, ma per stare più insieme, per viverci il momento ancora di più, ma per stemperare un po' questa tensione che ci sarà immaccabilmente.